e ha detto in penna in penna ci spostiamo è come hai fatto tu la prima volta è arrivato morbido è già fatto guarda c'è di lui però quel cancello lì e appunto cancello lui gli dà il colpo e poi atterra col dietro già sopra e ho capito ma gliela da tutta sotto e poi la scarica addirittura no 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 non gli hanno creato gli hanno dato un cazzo cioè è partito che era qua è era proprio il movimento che è proprio tutto il movimento che fa ha accelerato che eri qui è ormai quindi eri fermo proprio il movimento già pensavo che non ti fermavi ah 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 E' un'altra parte. però sei già fuori tanto da quella piccola non è la mia, non è la mia con la mia non gli è venuto ragazzi buona moto no 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 rob